e siamo arrivati al punto chiave al punto chiave di questo piano nazionale di ripresa e resilienza per la quale abbiamo ricevuto riceveremo gli aiuti dall'europa e siamo arrivati al punto chiave in cui bisogna decidere dettagliatamente dove andranno a finire queste risorse per questo piano di ripresa e di resilienza che non siano per carità delle risorse che siano semplicemente un aiutino una tantum ad uno ad un altro cioè che non rientrino negli aiutini ma siano quelli che il presidente draghi abbia ha giustamente definito gli investimenti positivi gli investimenti che permettono di costruire lavoro e di costruire nuovi profitti nell'interesse del paese e allora è in questo piano io vorrei sapere che cosa hai previsto per quanto riguarda l'editoria e vorrei sapere in questo momento in cui grazie alla pandemia si è scoperto che il digitale comincia ad avere una sua utilità in questo piano di investimenti che cosa è previsto per quanto riguarda l'editoria ma non soltanto l'editoria dei libri non soltanto l'editoria degli ebook non soltanto l'editoria dei periodici dei settimanali nell'ambito dell'editoria to cure e vorrei che si prendesse anche consapevolezza e si avesse coscienza che forse se ci si muove sul digitale ci si muove in sintonia con quelle che sono le richieste delle prossime generazioni quella di costruire una realtà in cui l'ecologia è al primo piano e garantisce uno splendido futuro alle prossime generazioni meno carta e più digitale